Dimmi Togli la voce modificata prima Come? Bro non è modificata Sì Allora stai laggando Se non è modificata Sì, ho un po' laggato Menni danni il IP del server Come? Ma è sempre il solito Lo copio dal torino Perché non ho voglia di scrivere Fixati il microfono Che vuol dire fixati il microfono? Perché sono laggato il senatore Non stai scherzando No, guardati la live Ma è possibile Allora Filiamo questo È tutto libero Che bello il feeling meccanico comunque Tu hai una membrana? No Allora stasera L'habro ancora? Sì, di brutto Adesso Adesso Meglio In teoria sei a posto adesso 42 75 2 Edit Due punti 42 75 2 Che palle Quando devi rimettere tutto Ah Doc Per notia Oggi ho una texture funzionante Se hai aggiustato tutto L'ho aggiustata io prima Ma? Mi funziona la chat vocale What? Cioè? Attiva, attiva Attiva la chat vocale Ander Eh, parla Sus No, non l'ho attivata Sì che l'ho attivata Apollo Che cosa hai settato? Everyone Proximity, sì Ora sei rotto tu, sì Che bello Vabbè, senti Non l'ho attivata Ciao Andre Perché non va più? Dai Ma che scato Adesso che va Siamo rotti entrambi Che bello Eh, Doc Io la faccio Venita qui Ma non si vede niente Quale lanterne blu Ah, giusto Come si toglie La bright Da questo Mercoledì Penso Da giovedì Full bright Off Doc Dov'è la full bright Scusa Shift Ecco il tonno Shift Destro Feather settings In alto a sinistra General Full bright Off Dov'è feathers? Feather settings Con lo shift destro E poi? General General In alto a sinistra Non c'è general Sì Sotto feather mode Full bright La terza Ok, fatto Fatto Ok Vogliamo Ho rifatto Tonnaso 2.0 Perché c'è della luce Da dove viene? Ah Togli la torcia Togli la torcia Ok Togli la Ok Così capiamo Dove è Il tonnaso Ah sì Tommy Ti ha fatto Di nuovo il pesce Ma io Tommy Non lo sei Ma perché Non sto parlando No Incredible Doc Vuole vedere Il gripping Ah Gripping Tanto non brucia Perché Lo deve sapere Non c'è mai niente Di questo gioco Eh vabbè Io posso No 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 Sì 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 Devo fare Una cosa Posso aprire Qua Mi serve Questa Mi sono spaventato Grazie Matteo Per il follow Mi hai chiesto Che non volevi In vista La farm Di patate Me la fai fare Qua Ma perché Qua che dobbiamo Fare le librerie La fai in un altro posto Dai Vabbè la faccio Prima Capito Qua ci metto Una torcia Chiudi Sì ma Sto blocco Vabbè L'enchanting L'enchanting è a casa mia Donno Dai vieni Arrivo Fammi avviare il gioco No Non devi giocare Senza il gioco Gioca con la mente E gioca con la mente E la potenza A te ti fumi La mattina Posso portare anche questa Grazie Quanto l'ho craftata io Che vuoi Sessanta roba di ping C'è qua Sì ma Sai che cosa Visto che Posso la Posso la Posso la Posso la Posso doc Un secondo Che sto tentando Di togliere Vieni Ah io qua faccio L'orto bello Sì Fala dall'altra parte Bravo Ah facciamo così Se qualcuno vuole fare Delle modifiche Ma io il bunker Poi lo espanderei un po' Però io farei una roba così E il magazzino Ce lo facciamo Così? Doc Che succede Se unisco la texture di M E la texture di Aaron Ah boom boom Ci provo Vieni da qua Poi Vieni da qua È successo Ah no È diventato È diventato coso Potresti piazzare Niente ma se non c'era più niente vabbè il terror è ripartito da zero una ventina di volte è colpa di piccio stasera per caso è entraterra non lo so perché no giusto per sapere ma io lo so che vuoi fare Tommy è molto strano so già che lo ammazzerà poi Bob arriva e lo ammazza a terra allora va messa se faccio così no Bob non so come vanno messe le librerie così no perché è da 12 dovrebbe dar molto di più secondo me aveva spostato un blocco più avanti no era giusto dove era prima cosa è successo è esploso tutto ma se giocassi a StumbleGuys dopo tanto è gratis su Steam se portassimo a live StumbleGuys dopo mi fa schifo l'ho giocato una volta e mi ha fatto veramente schifo abbiamo già fatto in live boh magari potremmo farlo con perché rimane a 16 livelli ah devo metterli qua sotto ma ti sta ma non ci sta tantissimo eh è un po' complicato adesso ho dato 102 posti disponibili potrei mettere la texture di M sopra quella di Eren ma perché devi fare tutto SUS boh perché sono pagato per fare no voglio provare a vedere se si riesce ad ottenere i mostri animati come la texture di Eren ma ma tutti gli oggetti della texture di Eren non so perché il mio cervello sta fondendo i mostri nella texture di Eren sono animati non ho la fresh animation ok così arriva a 30 io ne aggiungerei vediamo se il tonno è animato tonno tonno vieni qua dove è tu? animalo con la spalla oh tonno 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 come stai? tieni tonno ti ho fatto un tonno si sono animati ed è bellissimo è bellissimo parlo come Luca parlo come Luca sembra un goleone però mi piace vero? eh? una poco una una qualsiasi eh va che parte il ride no figurati la parte il ride è russa fai partire attacco belli e muori e e trimoni trimoni allora la la libreria l'ho fatta così doc che hai da ridere? mi piace come Tommy ha continuato la tia al contrario tonno dove vai oh? tonno tonno c'è e poi devo solo prendere una cosa da hand access ah vai a casa di ma no vai a casa di buca adesso e vai dentro di nuovo in casa di Luca perché ci sono i mob se no te la faccio esplodere questa casa devi venire prigionato perché se no è un problema doc non si può fare le prigioni? lì ma se siamo in quattro gatti sto server chi è che farebbe 5 ma no ma li intendo decorative decorative bello ma è potente a parte gli scherzi ti piace livelli è potentissimo io vado a spiegare a marty dalla live io vado a spiegare a marty dalla live lo vuoi ok ciò eh allora io devo allora io devo no mucio mucio bello dimmi se è carino si è bello grazie oh proteccio 4 con la prima al primo colpo eh sì vabbè efficiency 5 io avrei efficiency 4 ma date efficiency se no ma la the rocks world cosa ha? ah no la the rocks world aspetterò i 30 livelli per il certo voglio vedere se mi esce qualcosa di interessante su un pezzo di armor allora un breaking un breaking fire protection anche no no e respiration 3 ciao buongiorno ciao tommy bello ah tommy ti facciamo restare per gentilezza però non devi iniziare a fare scompiglio prendo l'irona sword solo per capire se non ho capito non ho capito non sto capendo niente ti facciamo restare perché va bene però non devi iniziare a fare scompiglio ok posso usare la cosa qua si però tu spesi va bene si nel senso che i lapis te li fai capito va bene anche i livelli anche io me li faccio le adorazioni ce l'abbiamo la terra si don guarda qua guarda cosa sto facendo di utile alla società nulla nulla di utile guarda cosa mi ha dropato uno zombie una patata c'era 9 c'era 9 questa si questa si che è tanta roba senti ehm ah vabbè ok ti regalo ton naso no ton naso il salmone fuori da la ton naso resta con te ma la raga no Tommy non inizierà a fare scompiglio Tommy ti diamo fuoco hai sbagliato posto dai riprenderti il tuo tonno e se muore prendi il tonno dai vai sono un animale domestico ciao le patate le mangio tutte non ne vedo da troppo tempo questi fanno schifo però guarda oh bello sai cosa questi qua li utilizziamo magari per decorare un'altra cosa no no va bene io non lo vedo aspetta aspetta bisogna fare una cosa Tommy è utile fidati oh adesso ora lo vedo ora lo vedo adesso sei più resistente guarda visto è resistita un pugno resisterà questa no no proviamo no che dopo mi tocca dargli cibo già ne ho poco anch'io non lo so cosa potrei incantare magari aia sai cosa hai uno di pelle lo stai chiedendo a me si ovvio che c'erò uno vieni il tonno chi lo controlla il secchio lo contiene che tieni grazie ho detto uno e lui da due oh va lo sei oh è uno di me no va dire va dire via po sei speciale molto Tommy hai ragione io sono oh va va oh va va aspetta vorrei vedere se hai il treno si ruba che sta facendo l'altro eccolo guardiamo con le telecamere di video e surveillance che non esiste eh ma questo qua si è messo in su doc venga si sono proprio in spectator doc si arriva mi dica se l'idea li piace allora se noi lasciamo un oggetto qualsiasi aspetta devo andare a accompagnare il tonno fuori dammi un secondo non mi fido va bene non ti fidare lasciamo praticamente eh vediamo il tonno che se ne va doc eh forse il tonno fuori eh vabbè ma si chiudono le botte rientro grazie puoi andare a controllare fuori se ti piace doc io lascerei tipo qua una spada in ferro che tu prendi e puoi vedere le enchant che ti da tipo io smite 5 a livello 30 è bella lei ha portata di mano per sapere che cosa ti uscirebbe non la si usa però è lì anche questa è a portata di mano se no la si utilizza per cambiare enchant cazzo io devo craftarla doc andiamo a prenderla eh ma la mia è più potente non sa perché però è più potente la su mi ignora il tonno ma lei ci va a minire eh io perché dovrei andare a minire non lo so cioè ti chiesti di farti le cose cioè che spero tu abbia voglia di farti le cose anche perché noi non te le rifacciamo anche perché sennò ti ammazza terror perché lui una spada di stone ce l'ha lo stesso ah ok le ho rubato una cosa importantissima per lei ah ah adesso come farò senza la mia leva oh mollo è in live da 3 minuti ragazzi tutti andremo tutti da mollo che cazzo è mollo boh beh lasciamo stare il pippo si è allungato ha uscito ha uscito il cappello il cappello del pippo e raga e raga e raga è un bel tonno va fortissimo doc mi serve fare un livello posso ammazzare io i mob per favore serve no no me ne manca ancora una tacca però grazie per avermela lasciata ho pittato brosbaio invece di togliere la tex di blazer l'enderman doc non posso che entrare meh no non posso che entrare perchè? il gioco si rifiuta eh vabbè devi aspettare un attimo la devo aspettare anch'io oh sentono un zombie dammi il livello 31 grazie oh un creeper ops doc è esploso un creeper molto vicino a casa sua doc eh puoi ripararci eh ah e oggi si va a fare lo spawner eh oddio l'obiettivo di oggi era più che altro incentarci e e con quali esperienze? beh io ho 31 wow io te li rubo ah che urli? sei un caio in calore che c***o è un crano? è un tonno? è un caio senza mano mi 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 te ne eh devo riavviare minecraft soltanto perché mi ha pannato l'ip a caso ma come ti ha pannato l'ip a caso? tu esci? ah perché hai cambiato connessione Allora in teoria adesso Dovresti togliere i numeri Adesso togli i numeri Non ti servono più I numeri che hai aggiunto in più Non dovrebbero servire Se li hai aggiunti Così? Stai facendo? Cos'è? Basta per favore Ok Questa cosa è molto brutta Stasera faccio poco a meno di due ore Stacco alle 21 e 30 22 e 30 scusa Ce lo mettiamo questo Come intro Del video Ce la faccio io la intro Quella brutta? Dai un intro per un video Allora aspetta un secondo Pronto? No Se la suoni al pannoporte Mi diverto però Non so come si fa Perché non esiste? Devi farla ad orecchie Non so Fa così Perché Faccio così Basta Ok Oh me la vi Ce l'ho fatta Dovamente Server Perché hai giocato tanti giorni Veramente A puntino Proprio A puntino Allora L'hai capita? La battuta? Poi Disenchant Non ha sui Napoletani No Ma io non voglio Smiteci Smite qua Non fumo i napoletani Unbreak in 3 a livello 30 Devo farmi un livello Dai Ma no Sei Sebastiano Ma non è possible Rama allocata Quanti sono 16 giga? 16.134 Tipo Non lo so Dovrebbero essere 16.134 132 16.132 Beh adesso 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 io ho dato Praticamente la metà Della mia RAM Perché prima Non avevi Prima avrei Tipo Fatto crescere Quando hai comprato L'altro Banco Quando ho portato A riparare Il Quando ho riportato A riparare Windows Io ho spiegato Ogni tanto Mi si riempiva troppo E lui mi dice Beh allora mettiamoci Altri 16 giga Io dico Vabbè Tu hai due banchi Da 6 Oppure Due banchi da 16 Ma come si fa capire Quanti ne hai? Devi aprire Il computer Ma ti giuro Mi crasha Minecraft A caso Quanti megahertz Ce le hai? Scusa Boh Ma la RAM 3200 Sono un po' basso La RAM è la stessa Quindi non dà problemi Cioè La stessa RAM Allo stesso codice Di prodotto Quindi uguale E infatti Non mi causa problemi Perché Minecraft Cut E car E car E l'arga di Sì E stock Mi tocca Riavviare Mi sa che mi tocca Avviarlo con il pc Da laptop gaming 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 Scusa Oh di Mi lascia Vabbè E non mi va No work Qua c'è del carbone Adesso Adesso Vai Fondo il carbone Così arrivo a 30 Non riesco a farmi Sti 30 Dannati Di livelli Dai Devo preparare Al volo Oh sì Boh Credo Un bug È ormai Aggiustabile Ma la mia voglia Di aggiustarlo È pari a quella Di un tedesco Che Vuole andare A guardare La Polonia Di mano Al fresco Sì Tedesco Che mangia Al fresco Non so Non dire Che mangia Al fresco Non lo so Però è figo Mi lascia Di alberi Metà Mi serve assolutamente Degli xp Come posso farla Facciamo la farla Vediamo I questi Utilizio Ascolta Che fare Ammazzito I tonni Sì I tonni Però con Quelli lunghi I tonni lunghi Ma non danno Niente Gli xp Pesci Normali Un pochettino Danno Mi sono preoccupato Il bombia Alla beh Mamma mia Fai prima Suicidarti Che Infatti Mi devi dare Le coordinate Dello spawn Quando ci arrivi Tanto C'è Sta qua sotto Dove c'è il canyon Tanto Tanto Allora Allora È lì sotto Eccoci qua Eccoli Il mio cesto Cosa c'è? Il mio cesto Cosa c'è? È il grano È un disco ah, ci ho aperto, che c'è visto oh, ecco zombo dai, mezzo attacca di spin su, spona, viva, saliva oh, ecco ne una si, ma non con il pane, gli stavo ammazzando faccio quasi prima di andare a cercare dei mob così a caso, sai ho già trovato un creeper ok, manca poco manca più poco di poco cosa ci fanno? 4 creeper 3 creeper che cazzo nooo manca ancora non è possibile madonna poi quelli non vogliono spawnare dai, mi manca zero, mi manca praticamente niente dai, facciamo così, va torno su e lo faccio con i mob che mi trovo guardi doc venga su eh, bruuu cosa? minecraft, launcher non va via minecraft luna si è bloccato feather non mi fa cedere fai una nuova versione di minecraft con launcher si guarda mai prima poi te la via ok ah oh 30 exp posso andare all' enchanting oh no che cazzo ok forse l'ha risolto con luna ho sei tonnasi eh no come si permette lei tu da dove sbuchi? a catturarmi è andato a cagarmi è andato a cagarmi tommy 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 che marzo è quel po' del tonno vedi ho un superi frattato di tonno ho mani tonno no lo do da sempre a 30 oh no si si wigo wigo for show ma perchè ci sono un player marty ma lucca non c'è nel server no perchè non riesce ad entrare ma bannato le ip ma nemmeno molto semplice il server mi ha bannato le ip ho provato a chiudere minecraft ma adesso feather non va più ciccio bello chiamato anche lunar funziona però siccome sono insistente voglio riprovare ad accedere per il tuo luog in l'autocacione 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 ma per un paio questo è anche la rappresentazione delle possibilità tria gain tria gain tria gain tre ragazzi vabbè no che merda però dai ah ma non ci sono 30 livelli si però ho tolto un paio di librerie perchè non riesco a trovare niente è buono ma e ora ti si posso usarle si sono 22 almeno una sharp in strada ma mi fattelo gare ma vittosia giovanni raga mangio si è quel porca di perchè non me lo fa non mi fa entrare non lo so è lo stesso problema che io allora vado a soffiarmi il naso non so io ho su 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 adio torno dopo quando canto quando canto è insopportabile diciamo io non canto mai il tonno intendo eeeh ragazzi è un tonno speciale andrebbe forti un 3 a 30 livelli ma ormai non c'è più voglia quindi no è un tonno speciale 669 iscritti ragazzi torno dopo riavvio il pc perchè se nooo io invece arrivo subito che devo fare una scappatina dentro al cesso vado a salutare tommy tommy invece intrattiene per un minuto ma sus ah il mio vomito il mio povero vomito l'ho picchiato tutto ma il tonnaso è esploso vero? si il locone pure e sono sempre solo siiii che bella vita di me vai riusciamo di qui vai riusciamo di qui con lei signori la di roxford vedremo del lander ci speriamo un minuto che non ce l'ampe lascio salve stocco sono tornato dai maraviglio di nuovo la casa ma io mi dico io sparo a qualcuno entra da crackato anche se non si può quindi rimango solo doc questo non si usa pixac no in realtà no perchè uso il laptop senti ci ho giocato per 3-4 serie ma usa lunar no? che andava lui non mi fa loggare che senso loggare vado a mettere l'account? ma tu esci ogni volta dall'account scusa no lunar non l'aveva ancora installato e feather non si sa perchè mi ha colto l'account io adesso entro ok con l'account sign with microsoft attento che è lui dai spaccata sera eh ma quindi io cosa faccio adesso scusami mi voglio da box che senso ci sei tu? è tempo di nonire tempo di tempo di tempo di non si può venire puoi alzarti il microfono o avvicinarti perchè sei diverso così va meglio purtroppo eh sto tentando di avviare avviare? fia o pentola oh Nicola niente è possibile fia o pentola facendo sto cane eeeh mini doc? trovo a uscire dal microsoft store secondo me è quello dici? ehm va bene? vai come vuoi che porco cane era quello lo sapevo oh oh ho disconnesso dal microsoft store minecraft stava caricando a vuoto dicendo oh no non siamo riusciti a connetterci ai servizi hai fatto tutto da un colpo ma bastardi beh anch'io io non ce l'ho mai loggato perchè è un account che non può essere nemmeno messo su microsoft store vabbè vabbè si sono rientro da federe vai mi sta caricando federe l'account bene eh torceria eh però il doc sta facendo loading libraries vero? si sto caricando le bestemmie dio 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 come funziona il doc? eeeh funzionano bene sono veloce prova vediamo se funzionano aspetta un secondo vediamo se funzionano accanto o mai sono so non funzionano le bestemmie però eh ora infatti vediamo un po' no se no adesso possiamo andare nella lunata la madonna puttata perchè? che? non te lo trova? nooo nooo mi lo non mi fa loggare oh dai ma logga su qualcos'altro madonna mia no mi entra neanche sul launcher normale mi fa oh no qualcosa è andato stolto lunar? eh neanche mi provo con lunar mi hai loggato prima ma poi mi tira subito fuori non mi dà il tempo neanche di entrare su multiplayer tu 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 allora io vorrei rifornirmi accedi con la ma porco cosa succede? si la fortezza ma è molto più vicina ma che cazzo no mi butta subito fuori e non capisco perché mi scarica il volo optifine optifine usa un altro client? eh provo a usare minecraft normale vediamo se me la carica ma dai cosa su microsoft ore non matcha ti matcha la vita io dai oh da quando hanno connesso sta roba qui ti giuro una roba puoi abbassare un pelo il microfono un pelo adesso va bene no così sei andato in cina dai io dico un pelo e lui lui adesso mi puoi l'oncore sei più forte di prima ma allora c'hai dei problemi tanti e un pelo devi abbassare clicchiamo una volta l'abbè te la basso io va bene così si bro mi hanno buttato fuori dalla canzone Microsoft non è che te l'hanno culato no la password funziona la password funziona mi deve arrivare mi deve arrivare una notifica sul telefono e deve inserire una chiavetta speciale quindi non possono cambiare cose importanti tutto ciò che riguarda la sicurezza devo inserire io una chiavetta fisica che senza di quella non puoi farci bene no ah bello ah bello cos'è cos'è no le battute del doc fanno sempre più cagare quello lo preva ma che cos'è che mi ha bloccato così si con il Microsoft il Microsoft la sigla di One Punch Man Tommy me la canti Tommy me la canti la sigla di One Punch Man cos'è ma un po' di più un po' di più meglio così vabbè è molto susa sta roba l'intento è pensato ma sembra caricare capito è quello che andava a prendere la signorina la sera no, è quello che ammazza tutti quanti vengono ecco dove andava, saliva nelle auto e fuori il buco eh, spariva, entrava nei buchi tu eri il buco no? dipende dalle circostanze molto lol, molto sus entrava nei buchi però la mamma di Luca gli entravano nei buchi dove sei Tommy? casa di Luca a cretare delle cose si Doc venga il tonno fuori da casa mia tonno fuori da casa di Doc e quei diamanti? ma li sono tenuti? sono quelli che mi erano avanzati fra io c'avevo un po' di diamanti vedremo subito se è la verità ecco, ma puoi anche controllare Doc quanti diamanti aveva lei? ma sui... di preciso mi ricordo però tipo qui ce n'è uno Luca Luca non inventare ieri ce n'era uno e anche oggi ho controllato io ce n'ho più di uno l'uncent abris lo posso riprendere? no è mio non è vero? te l'ho dato io ma io ce n'ho più di un diamanti non vorrei dire però no non è vero ne avevi uno ieri Luca ma perchè? me l'hai regalato? e i regali si possono anche riprendere ho rimborsato come su fortinite c'è la richiesta di... non sai che ti faccio io adesso? eh ti fai i cazzacchi stanno ti fai i cazzacchi stanno ti fai i cazzacchi stanno i due è sempre stato rotto Tommy posso aggiungere un piccolo dettaglio alla tua casetta? no oddio santo dai ti prego importante guarda cosa sta facendo la tua casetta mi ha distrutto tutte le coltivazioni adesso io le ammazzo vabbè allunghiamo le cose ora è più lungo di cosa? ahia guarda la cosa cosa vuoi? minchia metto un secondo eeeh ma perchè mi hanno... mi hanno bannato le cose eh vabbè ma te non sono bannate l'IP? ho chiuso minecraft se ne sbaglio posso pure ritirare ma che gioco ho fatto bene guarda che ti ammazzo lo stesso aspetta aspetta hai visto? guarda un secondo guarda un secondo guarda un secondo sto guardando allora che ne so facciamo una spada in pietra eh facciamo una spada in pietra la vuoi vedere in quanto poco tempo la rompe si però io così ci muoio ma veramente ti sto facendo così ah misera venga venga dobbiamo testare no bene bene ed ecce testo io qualcosa il tonno non deve toccare il tonno sta per crepare che ho fatto? il tonno ora morirà il tonno deve crepare oh no ti ammazzi per favore mi chiama il tastiere cazzo è andato eccolo il tonnaso guardatelo come nuota il tonnaso no no rimani nell'acquario tu nell'acquario il tonnaso avete chiesto è un po' ma come faccia a noi essere in diamante? dove li hai trovati? io mi sono risparmiato i diamanti secondo te cosa che dovevo prendere da l'ender cesta? ops ieri prima di andare in missione li ho messi secondo te io sono scemo e li lascio nella cesta ma li tengo nell'inventario e poi li metto nella eh ma ieri eri morto quindi ma ieri l'ho messa nella lenda infatti noi li uccidiamo ancora un paio di volte appena mi fanno accendere sti bastardi ciao no aia tommy si mette ancora l'autoclicker tipo ho capito che divertente trovare sul server ma si usa autoclicker autoclicker bello bello chiamarti lì a terra eh chiamato lì a terra e c'è per un po' di XP come cancone fome come cancone fome come cancone fome get no come cancone come cancone fome come cancone come cancone dai mi potrebbe scappare un pugnetto ti giuro che ecco qua basta dovevo disattivare le hitbox raga si è aggiustato cosa posso niente a caso messo la chiave fisica io ho fatto la verifica due fattori e io ho detto la verifica degli esami e la madonna è arrivato zio peppino franco penso che Tommy non avrà più un naso oggi ciao non entrare in casa mia perché ci sono andati a mazzo sul serio nemmeno in quella di pentola è neanche a casa mia aspetta aspetta raga non lo sapevo non lo sapevo non lo sapevo ah hai rotto l'erba ora ora io ora Tommy aspetterai che io vado a prendere l'erba il tonno muore ti ricordo che io però ti ho arrestato stai zitto no ti ho arrestato io e stai zitto ho detto vado a prendere l'erba venga qua a arrestarmi no tu ti sei fatti i cazzi tuoi o mi faccio i cazzi tuoi raga indovinate chi è che è tornato ma il pistola lì comune ti piace la zona di pentola? ma chi cacchio ha? ah ma è lei pentola no pensavo fosse una persona ma allora io io non c'entro niente no 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 adesso io l'ammazzo oh no scusa in realtà pensavo fosse ridroppo tutta la mia roba io glielo ho lasciato al palto marty la mia cesplette e la mia spada ah sì stavo capendo oh un attimo non è che non c'è te robo mi puoi ridare il mio ancient air briss era mio lei non sa con chi sta parlando con un coglio per farsi scusare mi dà un ancient air briss io esigo lecce allora ah ma io esigo che lecce è g questo è il più potente della tua spada è il più grosso vediamo un po' cos'è il più potente proviamo eh 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 doc scappa eh 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 anche il mio pane avevo 40 di pane eh vedi che è il più potente vabbè oh ma avevo 40 di pane niente è il mio potente di questa ma basta non ho voglia di città ah adesso adesso io 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 tu e gli noi vogliessi bastare io però ti eri animato subito eh teus è un tonno con sette nasi diversi sei trinasi tritanasi il tritanasi sei ma scopriamo che ragazzi da quanto è che non si dorme ma oh tutto il mio pane tutto il mio pane e tutto il mio legno eh eh doc chissà dammi il pane marty dammi il pane quanto ne avevi? più o meno avevo 40 di pane eh 40 io ne avevo almeno 16 è vero vabbè non lo rinamene non lo rinamene non lo rinamene non lo rinamene eh ma beh però anche ciccio gamer cioè almeno non farmi crepare di fatto Tommy lo rompere aspetta devo aiutare dai io atterro e lui ammazza Tommy basta non ti ho fatto niente no lei se l'ha ammazzato no invece il doc mi ha mi ha atterrato io atterro il doc e il doc e il Tommy ammazza il doc mi sembra giusto sì che cos'è io sono eh come dice lei è conte giusto lei è un deficiente Tommy spingimi senza tirarmi una spada va bene ok ciao addio va bene ho il tempo di mangiare il pane eh vabbè io faccio un bel pillar con la lava voilà io lo metterei sopra buonanotte pure messato guarda guarda che ho 20 livelli io non ho 19 tu me ne hai fatti perdere 29 adesso ci crepi sì non è vero no ieri sera adesso ci crepi io guardo e ti lascio morire no ti lascio morire ti lascio morire io vado via ciao ah va bene ciao dove siete? dai perché ne bisogna fare la lotta io le sapevo che non eri mortale chiamare il fiume in che zona? eh in una zona di un fiume non è niente sei contento adesso? l'immunicchia mi senti più irrealizzato? dai ma sei morto da solo ho preso in serio mi hai ammazzato te no c'è scritto died quindi non l'ha ammazzato e soprattutto ti avevo appena atterrato quindi non potevo far niente vero e dammi le mie cose perché ti giuro vieni lui giura però non mantiene mai ma sei un giurato della corte quindi due e se io brucio la roba quindi benci te avete appena fatto venire metto una roba dai mi don't but bella frate ridami rato pus dai ma mei c'è dato tutto ma non è vero ma non ti ho preso te ma l'asta gesto la spada messe a dimenticare anche il de-l'octopus per chieni mi la ma tommy ammazzo I fissori E' qua Ecco perché è bello mi crone Non ha un senso Vieni qua No fai schifo E' no E tu fai schifo E cosa sto facendo Tommy perché ti fai di droghe e ha parlato lui. Ah il mio accendino dove è andato a finire scusa ma in che senso e aiuto doc il mio accendino ieri lo aveva lei eh no basta non mi dobbiamo. Sì c'era lui c'era lui perchè io prima l'ho visto dal suo inventario doc lei un basta non è vero è quell'altro che ho io bene allora lo scoprirò in un solo modo tu muori adesso lui è amando lui si chiama lui è amando è amatoriale no ma no se ce l'avevo io io non ti ho toccato tu prima non mi avevi restato lei vada via io non ti ho toccato non ti ho mai toccato no hai preso l'oro no ha ragione no 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 io sono a 400 blocchi non ti ho bruciato niente perché non c'entra niente perché io non c'entra niente ho ripreso la 100 un sacchiello di lago tu son bastard tu la cintino che scusa che basta eh dopo la roba dobbia mi sono sempre a 400 blocchi anche perchè 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 qualcuno mi ha lasciato che non pensi ero oggetto scusè adesso gli ridroppo le cose qua mi riprendo il mio ma allora ehm su e basta io non ho preso nulla mi pare giusto Tom guarda il mio inv ehm la palla dovrebbe essere tua perchè io non l'ho usata si l'ho tenuta io l'ho rubata da lui doc vuole fare una cosa bellissima con me vede cosa ho in mano anzi aspetta ma no mi ha bruciato il tuo octopus ma io non ti ho bruciato niente io almeno sei te che non l'hai preso no l'hai bruciato sei te che non l'hai preso te l'avevo droppato poi te non l'hai preso uno più strido dall'altro signori sei deficiente papà mia se sei deficiente che domi facciamo una gara a chi muore più volte facciamo una gara a chi scorreggere qui e ciao eh lì dove lì dove dove sei morti eh si a capire ritorniamo in spazi ma che io devo fare lì il mio regno il mio regno il mio cibo ah il regno dammi la mia armor dammi la mia armor prima che ti ammazzi è la tua armor no ce l'hai già la tua armor guarda ce l'hai addosso guarda quanti 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 l'izia guarda gli utilizzi che hanno ti sembrano la mia l'avevo appena craftata è proprio la tua guarda gli utensili ma porca brutto ho f***o una marea di volte c'è stata anche la lava guarda che io gli utensili infatti la pala io lui l'ha usata tantissimo hai visto non iniziare il terzo gode giusto era così no sì però rianimami no io dovevo rianimare il tomo prima sì però voi non mi ammazzate oh io no il tommi forse oh tommi non iniziare non sto facendo gli assolcetti scusa vabbè che mentalità di due imbecilli comunque guarda io sono più stupido di voi no il mio tovagliò matti allontanati un secondo guarda la fontana ma allora io doc se mi ciula qualcosa la do picchi ti prendo tutto adesso ti ributto la tua roba questo ha ragione perché il doc ha fatto le brutte cose ci non l'ha fatto no questo è mio questo è tuo questo è mio quanto è bella la The Rocks World drop up oh ti stavo ridroppando tutto oh stanco ti stanco no tieni no 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 mi ridroppi tutto e ti lascio a te io non sto capendo e mi manca la spada dov'è la mia spada è la mia roba tieni io aspetto ti ho droppato tutto oh tieni non fa che dire aspetta ce l'hai lo spawn point oh ti ho droppato tutto aspetta un secondo ti faccio no non ce l'ho lo spawn point e ti porto un letto mio toc sì lui dopo rompe no suona la porta suona la porta tommy grazie marty posso darti una cosa guarda guarda cogli leggi bello piace proviamola vieni provala 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 vai vai però tirala aspetta anche per me però lei non ha le cose di qualità che senso tu non hai le cose di alta qualità di altre gastronomie che vuoi? fuori da casa mia ti sto aspetta aspetta dai lo rompere che già l'altro mi ha dato la sua armatura rotta devo rompere l'arcia devo rompere l'arcia effettivamente però è la tua armatura Tom è la tua io l'avevo appena ricraftata cosa vuoi? ma io sto buttando cazza mi sto riprendendo il legno che mi hai fregato aspetta prima scorteccialo e poi prendilo vieni qua allora ve la vedete voi due io non c'entro niente dai basta mi smonti casa ma perché? o te la rimonto rompi scatole se no ti inizi a piangere ok però lavori solo togli la mia sì però levati no lo rifai dritto eh no madonna dai dai che mi deve rimontare casa ton naso non ha le ali ton naso non ha le ali Tommy vieni a rimontare casa hai capito? tu me la deve rimontare oh bravo vedo che capisci l'italiano hai capito l'italiano andiamo a vedere se capito l'italiano sì magari se mi aiuteresti quanto facci che più cinque? dieci dieci più novantanove cento nove cento nove e meno cinque? cento quattro quella che hai te no cento cento nove meno cinque ragazzi come te ne attiviamo così? dopo c'è l'aula che vede panting panting no sul bordo vuoi? scusa? sembriamo tipo i tre no 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 basta ho spinto entrambi giù no tonno ti salvo tonno oh restami brutto non è che fai in modo no oh non stai bene si mi reti al mio tonnaso giusto dobbiamo andare a vedere il bunker vero doc? noi andiamo a vedere il bunker dai raga è il mio tonnaso doc cosa vuole fare adesso? aspetta piscio nel secchio dai impiare il tonno no dai io non posso allora devo fare una gag però devo trovare una mucca spero che lei non ha le cose di qualità superiore Tommy mi pensa un po' di tuoi 99 livelli ma se ne ho zero eeeh vabbè stocco eeeh mi ridì il mio tonno ce l'hai te il tonno ciccio no ce l'hai te si però venga qua eeeh Tommy mi riporterei sti no ecco ok potete dormire per favore dipende del ciclo ho letto ha davvero un letto allora leftate per favore no Tommy letto dai va bene left please giuseppe dormi no zizzo sono andato giù a Tommy dentro letto ho sentito lo spone e basta almeno non devo morire ogni volta e andare dall'altra parte del bollo lefta leftato non è vero si sono schermata vedi che sei tutto fumato ah vai fuori da casa mia fuori dalla mia palude oh calmati frate fuori dalla mia palude palude? ho detto fuori dalla tua palude eh ma che dico ah bravo fai le cose belle aspetta adesso è meglio Tommy la vuoi fare un'infiltrazione aspetta un attimo si è trovata una mucca me lo potete dire? si è stato infiltrato devo prendere della pelle non ammazzate la pelle goto goto mi danno un copio eh perchè la stai cantando male tieni dai grazie arriva però Ford è sempre inacquato però Ford capisce il doc agguantatore che fa tonno? tonno! un bucket, un coso di un bucket di gioco ragazzi potete dire mi se c'è una mucca nei paraggi non c'è ha fatto il bucket guarda che bella ciappesi oh una mucca una manda quindi a posto ma si poteva farla farlo ma c'era anche qui una mucca guardi ho pisciato nel secchio dai basta oh mi ho pisciato nel secchio c'è una mucca io ho pisciato nel secchio beva questo beva questo mi piace che cosa fa? poco si è andata a terra secondo la legge della fratellanza ma io mi faccio i cazzi miei non sa creverà no non mi fa lessare vabbè peccato è uscito no porco cane dopo questo si lamenta per mezz'ora che palle che c'aveva poi sto poraccio niente comunque doc le volevo dare un po' di cose di qualità no è coca cola no doc non cambia le cose di tomo dai mi scherzo ma che cacchio se esci mentre ti ammazza crepi ma non sono morto io eh doc ha fatto delle cose su sd ciao 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 oh sono cresciata hai rotto oh il mio tuo naso e il mio cibo ah tommy ce l'ho io Luca dammi il cibo il cibo ti regalo 4 di pane se non ti dispiace questo è pure grazie dove è doc mi sta facendo perchè mi sta rubando il grano ma guarda che sei mio non facevamo sono più o meno 3 4 live che facciamo così ah scusatini questo è il compenso mi stai affinando si porterà a fare una cosa no ho tanzia a dare io devo utilizzare 14 su lui lui ha l'armatura con me non è divertente perchè serve perchè fatto spam e basta quindi no 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 tieni lo scudalzato con lo scudo dai vai tieni lo scudo alzato ma eh vedi se no uso il tommy vediamo se funziona lo stesso ma mi serve soltanto per usurarla non ti voglio ammazzare no no anche io devo usare l'utilizzo della oh proviamo sul dock grazie l'ho rotta no grazie ti saluto no spacco la testa eh ahahah ah nevermind ti metto la testa nelle butande ah perchè è una delle stagite ahahah chi ha fatto sta roba di cobblestone se non la viene a smontare subito ma se è il napoletano di Luca Tanto Tommy ringraziami perché ti ho fatto la cesta Sera per Luca ne ha, ti disponavano pure le cose Grazie, grazie Eh fuori dalla tua palude Fuori da casa mia Guarda lo spingi brutto Guarda che cos'ho Posso tirarlo Poi parliamo e poi lo rianimiamo No eh Posso non russarlo? No non puoi Dai che bisogno Marti andiamo all'esplorazione Sì dai, mi rimane un po' di tempo Cos'è che si lamenta? Io non ho capito che cos'è sia questo rumore Mi ha tirato a terra Doh che tira a terra lei e l'ammazza Io lo vedo in piedi vivo e vedo Io vado in bagno Se torno che Ha preso fuoco casa tua Fai niente Vero? Dai E basta che tu non fai niente Non faccio creda Mi aiuti a fare casa come avevi promesso Sì Sì Smetterà Prima prima mi serve una cosa Vado a riprenderlo Ah è un bucket Sì c'erano tre Ma tre mi servono Però sto tono Non è come ho La fatta in giro E fatti è un altro bucket C'è Marti che è tornato Però non parla No in realtà io quasi quasi Se voi due andate nel nedero Io vado a prendere Prima che ti vedo la live Quindi E non parli Eh Vai non affogare Non affogare Dov'è che c'è la lava? Non affogare Soffoca solo per favore Qua E qua 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 c'è la lava Gisela Nevermind Penso che Possiamo concludere Domani è l'ultima live signore Purtroppo Perché poi si parte in vacanza Dell'estate Dell'estate No ma che Quando ti vado in vacanza Non hanno più Wi-Fi Per quello Buttati Vieni qua Devo caricarla GoPro Intanto Allora visto Devo caricarla GoPro Che Vai in su Mi staccava il cavalletto Basta con quell'autoclicker Allora GoPro Eccola qua Volevi Eccola qui Basta Mi hai tolto venti fuori Con quell'autoclicker Di me Oh ce l'hai fatta Grazie Adesso i diamanti sono io Tizzo Tizzo C'è piena di diamanti A chi Perché siamo Muscio Muscio Espanol Minchia Minchia Minchio Minchio No io non vengo più Luca Adesso vado a vivere in ingo Luca No Tieni un attimo lo scudo alzato Perché Tienilo Stai fermo Ok tipo Era una mia curiosità Che volevo sapere Ah no lo sapevi che si Vabbè Volevo vedere Non riferisco il test che ha appena voluto fare Perché potrebbero altamente picchiare E continua a picchiare No mi Ti distrigo Vai vieni Vabbè io signori penso che devo staccare adesso Quindi Come deve staccare Lei è proprio un bambino brutto Vabbè Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Buon giorno a te Bella Ciao a tutti 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 Ciao a tutti